17 e 30 euro city milano zurigo 17 e 32 18 e 32 19 e 30 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 23 24 25 25 26 26 27 26 27 19.32 19.46 14.24 14.50 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.38 15.46 15.46 15.46 15.46 15.46 16.47 Grazie a tutti. 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 Potremmo dare il mogolino d'oro a certi soggetti che trafino binari. Grazie a tutti. 16.01 riparte l'invio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 16.01. 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 o la 633 633 707 bella comune qua 17 e 27 17 e 30 17 e 50 ora è 15 e 32 Winner Expedition con la vedova nera però se non accendo 16 e 04 16 e 10 16 e 20 16 e 15 16.22 16.34 16.40 16.58 16.58 ed è la 402 17.30 17.41 17.31 17.51 17.51 18.40 ho capito sono le palle 19.29 19.33 19.35 19.35